Gli effetti delle misure di contenimento della pandemia da coronavirus cominciano decisamente a mostrarsi in Italia e in Campania. Il tasso di positività nel nostro Paese, infatti, è sceso dal 15,26% della settimana dal 16 al 22 novembre al 12,37% della settimana appena conclusa. Un ribasso di quasi tre punti percentuali, replicato in buona sostanza anche dalla Campania, passata dal 15,21% al 12,47%. Le cifre sono il frutto dei 176.341 nuovi positivi a fronte di 1.426.000 tamponi processati in Italia, mentre per la Campania sono stati 17.420 nuovi casi a fronte di 139.745 tamponi. L'Irpinia si conferma sostanzialmente sui livelli della settimana precedente, con 857 contagi su 9.174 tamponi, che restituiscono una percentuale del 9,34%, più bassa di quella nazionale campana, ma sostanzialmente stabile. Nessuna novità anche per il podio dei contagi assoluti, che vede sempre Avellino al primo posto con 142 nuovi casi, in forte aumento, circa il 31% rispetto alla settimana precedente. Montoro è al secondo, con 53 casi ed un confortante meno 44%, e Mercoliano terza con 35 casi, due in meno del dato precedente. Conferme anche nei dati sui contagi ogni 1.000 abitanti. Resta primo Pago del Vallo di Lauro, con 11,4 nuovi casi ogni 1.000 abitanti, in aumento rispetto al dato precedente. Al secondo posto troviamo nuovamente Moschiano, con 9,2 casi in lieve flessione, mentre al terzo posto irrumpe Marzano di Nola, che vede un deciso aumento dai 6 casi della settimana precedente ai quasi 8 del dato attuale. In leggera flessione i comuni della nostra provincia senza nuovi casi, passati da 26 a 21. Insomma una situazione che sembra migliorare, ma che deve essere confermata per poter essere davvero foriera di buone notizie. E consentirci di guardare con maggiore serenità ad un futuro che dobbiamo costruirci in parte da soli, partendo dai comportamenti giornalieri di ognuno di noi.